Ciao, io sono Antonio e oggi sono qui per parlarvi della nuovissima edizione dei libri del Trono di Spade. Io qui accanto a me ho la mia edizione, quella che già possedevo, ve l'ho anche recensita in tempi non sospetti quando aprì il canale tanti anni fa. E quel video andò anche abbastanza bene. Questa è l'edizione Mondadori Oscar in pelle di drago. Voi lo sapete, io l'ho amata ma l'ho anche odiata. E se qualcuno di voi si fosse perso quel video magari cercherò di lasciarvelo nelle schede, ma vi riassumo brevemente cosa accadde. Semplicemente i primi tre volumi della saga vennero pubblicati con una carta un po' più spessa, quindi una carta di qualità superiore, però erano già abbastanza spessi. E in corso d'opera Mondadori giustamente sostituì la carta perché altrimenti il volume sarebbe stato davvero ingestibile, sarebbe stato davvero difficile da leggere. Quindi capisco il motivo, le motivazioni, però in questo modo i volumi precedenti, nonostante contassero un numero minore di pagine, erano alla vista più spessi rispetto al quarto volume che invece doveva essere più grande rispetto a quelli precedenti, perché conta un numero di pagine superiore. Però, essendo la carta più sottile, visivamente sembra più piccolo. Questa è una cosa di poco conto effettivamente, però a me all'epoca diede molto molto fastidio. Ma comunque continuai ad acquistare i volumi, ho preso anche il quinto volume che è questo qui, questo è il quarto che infatti risulta essere il più piccolo tra i libri. E ecco qui, siamo in attesa che prima o poi George R. R. Martin si deciderà a pubblicare almeno il sesto volume. E poi un giorno, quando magari sarò anziano, vedremo finalmente come si concluderà la saga. Visto l'andazzo, visto che Martin ha smentito le voci che dicevano che lui avesse già pronti entrambi gli ultimi libri, e invece ha categoricamente smentito la cosa, il sesto è quasi pronto, il settimo ancora non l'ha neanche cominciato. Parole sue. Ma almeno abbiamo la vaga speranza di consolarci un giorno con i libri, visto l'andazzo che ha preso la serie TV. Ma potete stare tranquilli ragazzi, guardate il video tranquillamente perché non ci saranno spoiler sul Trono di Spade, sulla stagione in corso, o che al momento della pubblicazione del video dovrebbe essere già conclusa, ma ne parlerò in un video a parte perché c'è davvero tanto tanto da dire. Quindi quello poi arriverà successivamente. Oggi si parla di libri. Quindi questa è la mia edizione, quella che già possedevo, e poi vi ho già recensito in passato anche questo volumone qui, che è sempre di George R. R. Martin, e si tratta di Il mondo del ghiaccio e del fuoco. Questo era un volume che raccoglieva tutte le mappe di Westeros, di Essos, approfondimenti sulle città, è davvero molto molto interessante, ricchissimo di illustrazioni, di questo vi lascio il link nelle schede, anche in questo caso se riuscirò a reperirlo, perché credo di averlo messo privato, però magari adesso lo rimetto temporaneamente così da potervelo far vedere a chi magari se lo fosse perso. Ma ragazzi, di questi libri appunto vi ho già parlato, quindi bando alle ciance, e adesso voglio parlarvi di un pacco che mi è arrivato da Oscar Vault Mondadori, che davvero mi ha lasciato a bocca aperta. Mi hanno inviato un pacco enorme, pesantissimo, che ho già aperto su Instagram, quindi qualora non mi seguiste mi trovate su Instagram come antonio.seria e questo pacco è davvero spettacolare. E adesso ve lo mostro anche a voi qui su YouTube. Ecco qui il pacco in questione. Ragazzi, come potete vedere, è davvero enorme e pesa tantissimo. A stento riesco a sollevarlo. E all'interno cosa c'è? C'è la nuovissima edizione dei volumi del Trono di Spade, dei primi cinque volumi, e in più anche il primo volume del graphic novel del primo libro del Trono di Spade, della prima metà del primo libro del Trono di Spade, ma comunque adesso ne ne parlerò più nel dettaglio. Quindi adesso è il momento di tirare fuori le cose da questa mega scatola. E intanto ci tenevo a ringraziare Alfonso di Oscar Mondadori, che è stato davvero gentilissimo. Io quando trovo dei biglietti scritti a mano dentro i pacchi da parte degli uffici stampa, sono davvero super super contento, perché si vede che ci tengono particolarmente sia alla collaborazione che comunque al loro lavoro. Quindi davvero complimenti, grazie mille Alfonso, che mi ha ricordato che l'inverno è finalmente arrivato. E sembra che non voglia andarsene, visto che quest'anno l'estate qui in Sicilia sembra non arrivare mai. Ecco qui il contenuto in tutto il suo splendore. Adesso andremo a tirarli fuori man mano. Sono tutti e cinque volumi in questa edizione che io ho ribattezzato mosaico, visto che le copertine riproducono la texture e l'immagine di mosaici. Volumi che adesso tirerò fuori per comodità, così da potervene parlare con calma. Eccoli qui in tutta la loro bellezza. Ragazzi, devo dire che sono davvero molto molto belli, e io personalmente li trovo anche più belli rispetto all'edizione precedente, quella in pelle di drago. Io qui ne ho ottenuto uno. Si tratta del primo volume, quello dedicato agli Stark, dove è racchiuso ovviamente il primo libro della saga. E qui sulla costa abbiamo appunto il Metalupo e poi George R. R. Martin, il Trono di Spade, e un pallino che simboleggia il primo volume. Ogni libro ha uno stemma diverso. Il secondo è dedicato ai Targaryen, poi c'è quello dedicato ai Lannister, così via. E invece questa volta si è presa totalmente un'altra strada. Intanto come dimensioni siamo esattamente lì. Sono uguali. Ma la cosa interessante è che questa volta la carta utilizzata è tutta uguale, quella sottile, quindi hanno rispettato le proporzioni dei vari libri. In questa nuova edizione è stato anche mantenuto un dettaglio uguale a quello della precedente, questo è apprezzabile. Queste linee qui, che sono esattamente alla stessa altezza, quindi messi comunque una di fianco all'altra, danno un senso di continuità. Quindi mi piace molto questa scelta estetica. Al tatto questa è molto più liscia, anche se si sentono le scaglie, la pelle sotto le dita. Invece questa nuova è molto più ruvida, ma dà un feedback che a me piace tantissimo al tatto, davvero molto molto particolare. E ragazzi, adesso andiamo a guardare le singole copertine, perché sono davvero bellissime e meritano un sacco. La prima è questa qui in nero, che va a riprodurre in copertina il trono di spade. Il trono di spade, che è un mix di quello che conosciamo, che abbiamo visto nella serie TV, la parte superiore, però è molto più alto. Ci sono anche dei gradini e questo va a riprendere la descrizione che c'è all'interno dei volumi. Molto bella anche la cartina all'inizio, ve la faccio vedere. Qui abbiamo la cartina del Nord, abbiamo la cartina di Westeros, e qui invece abbiamo il Sud, sempre di Westeros. Quindi molto belle anche le cartine. E poi il carattere è della dimensione giusta. Si legge tranquillamente, non è troppo piccolo, quindi è anche abbastanza maneggevole il volume, perché la carta appunto è più sottile, quindi è stato ridotto un po' lo spessore del tomo. Quindi davvero, al momento, nulla da criticare. Sono davvero contentissimo di questa nuova edizione. Sul retro invece abbiamo una vetrata, e qui abbiamo un cinghiale e sopra un cervo. Quindi probabilmente un richiamo a Robert Baratheon, che sappiamo che fine fa proprio a causa di un cinghiale. Quindi molto molto bella la scelta della copertina. E sulla costa abbiamo sempre George R. Martin, in questo caso troviamo una corona, e poi il trono di spade è il numero uno in romano, anziché i pallini. Ogni volume costa 25 euro, ma al momento ci sono tantissime promozioni da parte di Mondadori e anche su Amazon, quindi trovate i link sotto in info box. Passiamo adesso al secondo volume, che è questo qui, questo qui in azzurro, che a me è piaciuto tantissimo, perché si va a discostare dai toni cupi, che di solito troviamo nelle copertine del trono di spade, e invece abbiamo un bel azzurro, un rosso, un verde, mi piace davvero moltissimo. In questo caso abbiamo una nave, credo si tratti di una nave di Stannis, visto che abbiamo un cervo all'interno di un cuore. E invece nel retro della copertina, ecco che troviamo questo mosaico che va a riprodurre la sagoma, lo skyline, passatemi il termine, di approdo del re, con una grande luna sullo sfondo, e poi ecco che abbiamo una linea continua di verde, che probabilmente è l'altofuoco, quindi sicuramente sarà un richiamo alla battaglia delle acque nere. Quindi anche in questo caso ci sono diverse citazioni visive nella copertina alla serie TV. Qui sulla costa, ecco che abbiamo le corna dei Baratheon, e poi troviamo al solito il numero romano, in questo caso il 2. Andiamo ad accostare a questo, e passiamo al terzo, che torna ad avere toni un po' più cupi, quindi si va un po' ad alternare, e parliamo di una tempesta di spade. Il terzo volume, in questo caso tutto nero e rosso, quindi possiamo dire che è un po' dedicato ai Targaryen, e abbiamo in copertina quello che palesemente è Drogon. Drogon con del fuoco alle sue spalle, fuoco che continua anche sul retro, dove troviamo delle mani che spezzano, oppure che tentano comunque di spezzare delle catene. Quindi chiaro riferimento a Daenerys, che è colei appunto, che spezza le catene. Anche in questo caso, mi è piaciuta molto la scelta. Qui abbiamo questo logo, che secondo me è simile a quello dei Tyrell, però non ne ho la certezza, è un po' vago. Potrebbe anche non esserlo, quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se anche secondo voi è una rosa stilizzata dei Tyrell. E questo invece è il volume numero 3. Poi passiamo al quarto, che torna ad essere molto chiaro, di nuovo toni dell'azzurro, e si tratta di un panchietto per i corvi. E in questo caso troviamo in copertina Pike. Credo che sia proprio Pike, una delle isole di ferro, nel caso mi stessi sbagliando, mi raccomando, correggetemi nei commenti. E troviamo questi toni molto azzurri, questo verde, questi palazzi appunto pieni di questa, quest'erba, questo muschio, questo limo, non saprei sinceramente come si chiama in italiano, lo so in dialetto, ma non voglio dirlo. E invece sul retro, ecco che troviamo una montagna con dei corvi, o comunque dei gabbiani, degli uccelli qui in alto, e poi troviamo qui dei marinai, penso comunque degli abitanti delle isole di ferro, e poi troviamo una specie di scena che secondo me va a ricreare l'atto dell'incoronazione dei Greyjoy, di Euron probabilmente, visto che, se non ricordo male, è proprio lui ad essere incoronato re durante questa cerimonia. E quindi, secondo me, va a riprodurre proprio questo. Quindi, altra citazione anche alle scene, perché è molto molto simile, soprattutto Pike è molto molto simile a quella che abbiamo visto nella serie in TV, e quindi mi piace. Questo riferimento, quest'unione, questa fusione, mi piace davvero tanto. E poi, ultimo volume, non per importanza, del Trono di Spade, Una Danza con i Draghi. Qui si torna ad avere toni diversi, qui abbiamo dei toni caldi, autunnali, troviamo del rosso, dell'arancione, e palesemente troviamo un corvo che potrebbe simboleggiare tranquillamente Bran, e poi abbiamo un albero diga, qui, e sul retro, invece, abbiamo dei riferimenti ai morti, o ai non morti, comunque, perché vediamo palesemente un teschio, una mano, delle ossa, sotto terra, e poi, qui in alto, sulla collina, troviamo la sagoma palesemente di Odor, e degli altri ragazzi che lo seguivono, di Osha e di tutti gli altri. Quindi, anche in questo caso, secondo me, copertina azzeccatissima, non vi ho parlato dei simboli, dei volumi precedenti, qui, ecco che, troviamo una fiamma, mentre, qui, invece, troviamo questo, che è il simbolo degli estranei. Io aspetto, con molta ansia, i prossimi volumi, spero che Martin si dia una bella svegliata, e che, perlomeno, ci regali la gioia del sesto capitolo, visto quello che è successo nell'ultima stagione, ma ne parleremo più avanti. Ma non è finita qui, perché Oscar Mondadori mi ha inviato anche un altro volume, che è davvero la ciliegina sulla torta. Eccolo qui, si tratta del primo volume illustrato, quindi del graphic novel, del primo libro del Trono di Spade, quindi un gioco di troni. In questo caso, non è tutto il primo libro per intero, ma è la prima metà. In America, se non sbaglio, è già uscita la seconda parte, quindi credo che a breve dovrebbe arrivare anche in Italia, ed è in lavorazione la prima parte del secondo libro. Si tratta di un graphic novel davvero bellissimo, in poche parole, in America, sono arrivati da tempo dei fumetti mensili, e questi fumetti, man mano, vengono raggruppati dodici alla volta in questi volumi. Questo volume, appunto, raggruppa i primi dodici numeri, ed ecco qui, vi faccio vedere alcune delle tavole, anche per mostrarvi lo stile, che a me piace un sacco. Eccolo qui, spero si riesca a vedere bene, ma è davvero molto, molto bello. Mi piace un sacco che le tavole abbiano lo sfondo nero, perché aiutano tantissimo la lettura, e poi ecco che abbiamo Lord Varys, ad esempio, in queste tavole, abbiamo Ned Stark, sono davvero super riconoscibili, e la cosa molto, molto interessante, è che il graphic novel è basato sui libri e non sulla serie tv, quindi troverete molte, molte cose che nella serie sono state cambiate, omesse, troverete anche i paesaggi, che Martin è bravissimo a descrivere i luoghi, li troverete qui rappresentati nelle tavole. E, cosa molto importante, come potrete vedere, questa parte qui, più scura, è quella dedicata al graphic novel, e poi abbiamo alla fine una parte bianca, che invece è dedicata allo studio e alla realizzazione di questo graphic novel, di questi fumetti. Ecco qui, infatti, delle tavole, possiamo trovare anche dei disegni preparatori, è davvero molto, molto interessante anche leggere questa parte, tutto quello che, tutto il lavoro che ci è voluto per poter realizzare un'opera del genere e soprattutto aver avuto il coraggio di imbarcarsi in un'opera del genere, che sicuramente non è facile da portare avanti. Quindi apprezzo tantissimo, questo volume ha un prezzo di copertina di 28 euro e, ragazzi, naturalmente lo trovate scontato sotto in infobox e vi lascio i vari link. Io sono davvero super, super contento ed entusiasta di questo unboxing, ringrazio tantissimo davvero Oscar Mondadori per avermi inviato questi volumi, vi consiglio di seguire il loro profilo Instagram Oscar Vault, vi lascio tutto sotto in infobox per restare sempre aggiornati su tutte le novità, anche perché a luglio è in arrivo un nuovo volume dedicato alla saga che già promette benissimo. Quindi, ragazzi, prima di chiudere vi ricordo anche che il volume che vi ho fatto vedere inizialmente, quello lì dedicato ai luoghi del trono di spade, il volumone, è in arrivo anche quello in edizione aggiornata con copertina in drago, copertina drago che va appunto a stare meglio accoppiato a questi volumi qui. Davvero molto, molto bello, lo trovate già disponibile anche quello sotto in infobox. E, ragazzi, qualora foste interessate ad acquistare uno o più magliette dedicate ai vostri fandom preferiti, oggi ad esempio indosso una dedicata al trono di spade, in questo caso quella di Hold the Door, quando ancora il trono di spade aveva un senso, eccola qui. Questa qui è una maglietta che si illumina al buio, ad esempio, e le trovate tutte su Pampling. Pampling dove potete utilizzare il codice sconto 7 Potter senza scadenza, senza minimo di spesa e vi darà diritto sempre al 15% di sconto su tutti i vostri acquisti, al momento le spedizioni costano solo 1€ e, ragazzi, quindi, che altro aggiungere? Ormai lo conoscete benissimo, date sfogo ai vostri acquisti e taggatemi su Instagram perché sono sempre contento di dare uno sguardo a quello che acquistate e spesso anch'io prendo spunto dai vostri acquisti. Ragazzi, detto questo, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità e con la mia recensione di tutta l'ultima stagione del Trono di Spade e con la mia opinione personalissima. Fatemi sapere se vi interessa, se vi farà piacere guardarla, tutto sotto nei commenti. Detto questo, chiudo il becco e vi saluto. Ciao! Ciao!